Giochi d'accesso, giochi d'accesso, giochi d'accesso Salve a tutti ragazzi e bentornati su YouTube sul server con Giochi d'accesso L'unica rubrica che oltre a farvi venire il mal di mare vi consiglia alcuni giochetti molto simpatici e utili Tranne quello di mezzo, quello di mezzo no, no cacca quello di mezzo Oggi si parla di Ball King, un giochino molto molto semplice Con il quale potrete utilizzare un dito per fare tutto Niente di troppo complicato, sarete un ragazzo o una ragazza o qualsiasi altra cosa Perché poi si potranno sbloccare o acquistare altri personaggi E dovrete fare tiro a canestro, nulla di più semplice in effetti In effetti basta calcolare la parabola del tiro per poi centrare il canestro Un tiro perfetto di da più punti, cioè quando non toccate i bordi del canestro Altrimenti prendete meno punti ma fate canestro e perdete anche più tempo Perché c'è anche la sfida a tempo Una sfida molto simpatica che inizia con 60 secondi E che vi va ad aggiungere tempo nel caso in cui facciate un tiro perfetto E' interessante il concept del gioco perché oltre a dover fare il canestro Ogni tiro che azzeccherete il canestro si sposterà E si sposterà da una parte all'altra dello schermo Quindi sarà veramente difficile centrare il canestro una volta che avete preso la mira con la prima posizione Quindi il gioco è di per sé molto molto divertente Ve lo consigliamo e gratis su Android, su iOS non è dato ancora saperlo Almeno adesso che giriamo il video Magari fra un po' non c'è problema Lo possono scaricare tutti quanti e basta Si possono cambiare le palle Invece di usare la palla da base The basket The basket Mi è scelto a baseball perché c'è anche una palla da baseball Si può utilizzare anche una bistecca Bello Io me lo immagino un giorno no? In paradiso Che tu prendi il tuo pc Prendi la tua piattaforma di gioco preferita che è Steam E che cosa trovi? Trovi soltanto titoli AAA belli Non come Unity Belli Questo giorno è molto lontano Ovviamente si tratta di un qualcosa di utopistico E tutte le volte che andiamo a sbirciare nel negozio dei giochini Android Ci rendiamo conto che un buon 80% di questi titoli non è altro che merda E ovviamente oggi si parla di Fight Sentite questo titolo quant'è lapidario e monolitico Fight Che poi uno immagina un gioco dove ci si picchi no? Fight, Street Fighter Quindi due personaggi che si merano E invece no C'è questo tizio Tizio Che puoi chiamarlo tizio È una specie di cavaliere C'è un tizio vestito Con una spada E deve correre Perché tu ti svegli nella savana e tu sai che devi correre con una spada in mano Intorno a noi il nulla pneumatico Il niente Siamo in una gigantesca radura Che a un certo punto finisce no A un certo punto troverete delle colonne Degli archi a volta bellissimi Però sparsi su questa pianura estrema E senza un senso logico Cioè voi trovate un arco qui Una colonna qui Un paio di casse di lì Giusto per riempire lo scenario Che già di per sé faceva schifo Con queste cose messe a cazzo Fa ancora peggio Ma cosa dobbiamo fare in questo gioco Oltre a rimirare questa gigantesca pianura Tutta uguale E noiosa Come una fila alle poste Dobbiamo picchiare Dei cattivoni Che stanno Tutto intorno a noi Ci sono dei maghi Degli orchi Delle figure umanoidi Tutti quanti insieme Così come se fosse una festa di carnevale Immaginate il Luca Comics Sezione Cosplayer Ok Ci sono diverse creature in giro Di dei menatutti Non si sa perché Non si sa chi tu sia Non si sa perché In questo gioco Ci siano soltanto due comandi Muoviti avanti Indietro Destra o sinistra E l'inquadratura ovviamente Rimane quello Non è che ruoti Non esagerare Cioè un gioco come fight Fight Che tu immagini E poi si mena Perché con l'altro tasto meni Quanti tipologie di attacco c'hai? Una Cioè in realtà ne hai tantissime Perché tu puoi fare Tap 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 Oppure puoi fare Tap 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 Attenzione perché sullo schermo I tasti non appaiono Sì e la cosa bella è che È anche buggato Cioè se potevano sbagliare qualcosa L'hanno fatto Hanno sbagliato tutto il gioco Compreso l'inserimento di bug Su di una piattaforma Perché quella è il cellulare È una piattaforma completamente piano A pianura Non è che si può sbagliare più di tanto No ci sono i bug A volte cadi A volte si toglie la texture del terreno Molto molto bello Ora vi sembrerà strano Ma noi non abbiamo collezionato Chissà quante ore di gioco Su questo file Per il semplice fatto Che è una rottura di cazzo Che neanche vi immaginate Sappiamo perfettamente Che voi andrete a Scaricarlo Perché i giochi brutti Sono quelli che scaricate Maggiormente Perché lo sappiamo? Perché andiamo a controllare Poi questi giochi Che fine fanno E tutte le volte Finiscono in top Stiamo facendo un sacco di danni Prima con Mancini Poi con Sorrentino Adesso anche con i giochi Di merda per cellulare Comunque questa volta Potete tranquillamente evitare Perché veramente Non ne vale la pena Bene Adesso vediamo Un altro bel giochino E quando dico bel giochino Intendo un gioco Veramente carino Stiamo parlando di un gioco In cui si utilizza Come spesso avviene In questa rubrica Un solo dito Stick Hero Qual è il concept del gioco? È molto molto semplice Siamo un omino nero Che deve passare Da una piattaforma nera Ad un'altra piattaforma nera Come dovremmo fare questa cosa? Erigendo delle Dei pali Non lo so È tutto bidimensionale Potrebbero essere anche Delle assi di legno Non lo sappiamo Però dobbiamo crearle noi Dal suolo Fino a un'altezza Tot Dobbiamo essere molto attenti Però a realizzare Dei passaggi Che siano della dimensione giusta Perché nel caso in cui Superino In dimensione La tratta che dobbiamo percorrere Ci faranno cadere Oltre la piattaforma Che dobbiamo raggiungere Lo so È un po' contorto Ma guardando le immagini Del gameplay Vi verrà facilissimo Capire di cosa sto parlando Ovviamente Oltre al comando Che ci permette Di innalzare Queste Queste pertiche Abbiamo un nuovo comando Che è quello Che ci permette Di passare da sopra A sotto Dovremmo spesso fare Questo switch Perché dobbiamo Afferrare degli oggetti Che spesso sono sotto di noi E non sopra di noi È pericolosissimo però Perché se noi lo facciamo Con il giusto tempismo Ci andiamo a spiaccicare Sul muro davanti a noi Molto molto divertente Addirittura Penso che sia uno di quei titoli Drogheschi Veramente Che ti attaccano per ore Soprattutto se non avete Un cazzo di meglio da fare Ma questo è un gioco Che va utilizzato Proprio quando non hai Un cazzo di meglio Da fare Quindi va benissimo Gradevole la grafica Nella sua totale semplicità Gradevoli i suoni Il comparto sonoro Ma poco conta Conta che sia un titolo In grado di intrattenere Noi ragazzi Vi ringraziamo per l'attenzione E ci vediamo Al prossimo Giochi d'accesso